ehi ciao amici amiche colleghi colleghi youtubers tutti buonasera o buongiorno dipende da quando guardate questo video vi do il benvenuto sul mio canale canale di arthur franzarelli officer youtuber max che tra poco cambierò il nome in arthur franzarelli youtuber max officer appena youtube mi da la possibilità di farlo perché ho cambiato più volte l'intestazione quindi adesso mi trovo un po in qualche difficoltà bene allora veniamo dunque questo blog come vedete il titolo è cosa faccio per voi ok quindi vi informo che durante l'arco della settimana cioè dal lunedì al venerdì ogni giorno è buono per fare una diretta serata ok l'inizio della di scusate che mi sistemo sulla mia poltrona l'inizio della diretta è alle ore 20 con termine ore 20 45 21 dipende dagli spettatori allora ragazzi quando ricevete la notifica della mia diretta entrate numerosi cercherò di intrattenere più possibile anche con battutacce no battutacce no battutine imitazioni tipo così giusto per intrattenervi si parla di più del più del meno di quello che volete voi basta che introducete nel momento e si continua comunque bando le cianci cianci a bando vi informo e vi confermo che lunedì martedì mercoledì giovedì e venerdì ogni singolo giorno può essere quello della diretta perché questo le dirette non sono e non saranno continuative perché per impegni personali sia di lavoro che sul fatto privato non mi danno possibilità di effettuare le dirette tutte le sere ma il lunedì sicuro per l'augurio di un buon indice di settimana il venerdì sicurissimo per un buon fine settimana il martedì mercoledì e giovedì ognuno di questi giorni può essere quello buono per una diretta quindi aspettate una mia notifica di diretta in corso ed entrate per quanto riguarda la pubblicazione di vlog anche quelli saranno ogni giorno ogni giorno della settimana produco dei vlog che può essere nella pausa pranzo o alla sera prima della diretta o nella notte perché ultimamente sto producendo vlog anche di notte ora sono le 22 e 40 minuti niente chiedo scusa il cellulare vedrò in più questo vlog vi dico anche brevemente perché siamo già a tre minuti e mezzo che mi sono fatto promemoria che a 450 iscritti a 500 e a 1000 ci sarà uno special vlog a 450 ok ci sarà lo special vlog e come premio per voi che vi siete iscritti come ricompensa del vostro della vostra iscrizione e ringraziamento per a 450 iscritti verrà un bicchiere più un pochino ancora di più dopo il primo bicchiere di aceto con una sorpresa ci sarà ormai ve lo dico il peperoncino in aggiunta più un ingrediente segreto che non vi sto a svelare a 500 iscritti però un bicchiere e mezzo di aceto più una sorpresa che non è diluibile nell'aceto la mangerò però non vi dico cos'è ok a 1000 iscritti attenzione eh a 1000 iscritti due bicchieri pieni d'aceto pieni due e la sorpresa va bene ve lo dico ve lo dico? ok la sorpresa è che oltre a due bicchieri di aceto a 1000 iscritti mangerò anche due spicchi d'aglio questo mi sembrava giusto dirvelo del genere ok sono venuto a conoscenza da un carissimo amico collega youtuber che sa il fatto suo e se volete lo pubblicizzo anche è justduo Giovanni il mio grandissimo collega e amico youtuber mi ha detto no guarda non ti preoccupare perché evidentemente succede spesso ed è già anche successo in passato che cosa succede? che youtube fa una ehm selezione di canali con un certo quantitativo di iscritti cioè superiore a 100 ehm e facendo questo questo scandaglio questo movimento rileva chi sono gli effettivi iscritti attivi e li lascia quelli inattivi o passivi cioè attivi poco li toglie li disiscrive li toglie li toglie infatti ehm me ne sono accorto anche dal fatto che ehm durante le mie dirette di solito totalizzavo un 15-16 spettatori adesso invece ehm me ne trovo con 8-9 quando capita però cosa succede? che ehm il canale in questione preso di preso in esame viene ehm selezionato e messo nella nella sezione canali consigliati dove ehm viene pubblicizzato ed ed effettivamente ehm le persone che avranno un accesso costante ma che non si iscriveranno youtube le ehm a quanto pare se non ho capito male le inserisce come iscritti al posto di quelli che erano totalmente o parzialmente inattivi bene detto questo ehm ringrazio veramente Joe che mi ha dato questa illuminazione che veramente vi dico che ero già ehm preoccupato ehm io ce la sto mettendo veramente tutta per voi ehm niente il video è durato anche abbastanza lungo mi dispiace di avermi intrattenuto così tanto ma era necessario per informarvi su ciò che farò ai prossimi traguardi dei quattrocentocinquanta cinquecento mille iscritti in più questa eh postilla ehm questa noti ehm questo aggiornamento sul sull'ultimo vlog prima di questo che ho pubblicato e che penso spero di no ma può succedere anche a voi che vi trovate con qualche scritto in meno e adesso sapete il motivo quindi detto questo eh arthur franzarello vero youtuber eh max officer vi ringrazia per la visualizzazione del canale per aver visto questo video e tutti i miei 217 video visualizzateli tutti 217 compreso questo ehm sono roba mia privata le musiche che trovate in qualche video qua e là sono musiche proposte da youtube nella sezione rea ok quindi eh vi ringrazio eh continuate a visualizzare il mio canale a commentare a lasciare like eh a condividere e a iscrivervi e ricordate che le promesse che faccio io le mantengo ok questo è quanto dovevo dirvi un saluto un bacione un abbraccio sentito veramente dal sottoscritto con un doppio pollice in su per tutti voi e con una buona fortuna in bocca al lupo dite come volete per il vostro canale e che possiate crescere nel tempo e che siate soddisfatti del vostro lavoro e di youtube in generale ciao bella lì grazie